Continua a tenere banco la questione relativa alle cartelle di pagamento per mancata disdetta di visite specialistiche che l'AS di Lecce sta inviando con posta ordinaria e non a mezzo raccomandata a centinaia e centinaia di cittadini del capoluogo e della provincia, intimando di pagare somme che variano da 31 a 44 euro e relativa ad un arco temporale che va dal 2014 al 2022. E sono in tanti che pur di non arrivare a sborsare 200 euro per mancato pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni, quelli che stanno provvedendo a versare gli importi richiesti. Tanti cittadini in fila agli sportelli ed in alcuni casi code lunghissime. Anche da parte di chi chiede delucidazioni in merito perché sulla vicenda continuano ad esserci passaggi poco chiari, come quello relativo alle disdette effettuate telefonicamente, delle quali ovviamente non è rimasta traccia alcuna, oltre a quelle effettuate anche presso il CUP, ma per le quali, a distanza di dieci anni, sono in molti a non avere più il numero di disdette rilasciato. Richieste di chiarimento a seguito delle tantissime segnalazioni arrivate nella nostra redazione che abbiamo tentato di chiedere al direttore dell'AS di Lecce Stefano Rossi, contattando anche l'ufficio stampa, senza però avere al momento alcun riscontro. Intanto le cartelle stanno continuando ad arrivare giorno dopo giorno. Una questione che si ripropone a distanza di due anni e che era stata anche affrontata in regione con le rassicurazioni dell'assessore Palese. In mancanza di una istruttoria deve esserci attraverso uno contraddittorio. In assenza di questo contraddittorio l'AS non emetterà nessun provvedimento successivo. Ma oggi la storia amaramente si ripete.